su non mi deve dire a tutti mi deve lo smutare perché devo dire io un consiglio come rimorcare le ragazze hanno detto che le auto si 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 la sto sentendo un consiglio per i morti si 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 no ma che si io di questo vabbè vai mi esco aglio allora se voi dovete chi sei una ragazza e ci vai ci dici ciao bellissima ma è una bucchiatto io devo un bello pesce ma sono un bello bello pesce quindi se poi ce n'è un altro consiglio è comunque il capitato faccio un consiglio allora poi un altro consiglio se vuoi essere un po' fettino perchè quello è spezzauzi se vuoi essere un po' sceglie guarda la vuota si è smnite guarda la wanna si sm Tools guarda la voota si smonte ci dice il brew che員 di nessuno dove va poi allora ti devi perdere una mi devi dire ciao bellissima i pubblicani ti chiedi bella Se tu prendi una topatata, io la topatata per la scuola, dall'azzo, mi senti con dei miei qua. Se non ti va bene, all'azzo e non ti va bene. Se invece ti va bene, mi fai un piatto e mi fai un bravo. Questa è per essere un peccine di peccine, ah? Allora che siete con te, non c'è, non c'è. Mi devi dire che li smutano, perché vi devo dare un altro consiglio per rimorchiare. Angelo, tu da che giochi? Ho dovuto smutare perché vedrai un altro consiglio per rimorchiare. Aspetta, non sai. Allora, stai asserico e assalto erano. No, stai lì, 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 stai lì. Allora, un altro consiglio, un altro consiglio, un altro consiglio bello. Allora, un altro bel consiglio, sempre per rimorcare, tu ci vai, vieni qua, uno con l'acqua in peccine, vieni per favore. Allora, vieni qua, questo deve essere i giochi, tipo tu, questo sei tu, vedi questa bella ragazza, questa bella gnoccolana. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. E' tu, vieni qua, vieni qua, vieni qua. E' tu, e' tu, vieni, questa bella signorina questi due belle muretti, e tui dici scusa te la posso chiedere una cosa? e tu sei per favore chi le mamme che l'ha batto oh non ci finisca non ci finisca fammi finire e tu gli dici mi capi a colare qui devi dire scusami mi pare fare una chiamata e io metto il tuo numero di telefono qua appena si fatta la chiamata tu rispondi io ti chiedi a mia mamma che vuole parlare e io ti rimango su e poi lì un colpo di scena è tua sorella oh mamma ci vuole fino all'autostrada voi ci ha capito come ci state all'autostrada il cirillo vangolo al cialu tavolo riscatta a te ga il cirillo vangolo